Menziono nuovamente che avete a disposizione, attraverso il valido indice alfabetico, più di 2500 video da consultare e confrontare per le proprie e libere ricerche. Sono indispensabili per confutare l'indottrinamento subito dal sistema al comando e scoprire l'enorme inganno. Sta avvenendo metodicamente da generazioni, fin da piccini, prima attraverso l'istruzione obbligatoria, dove ci hanno fatto credere, ad esempio, all'effetto Corioli, che non esiste, come il funzionamento del pendolo, che, oltre ad essere instabile, ruota al contrario, specialmente durante le crisse, addirittura non funziona se al posto della palla metallica c'è quella in legno. Non ci insegnano nemmeno che le nuvole girano più velocemente della rotazione del globo verso est. In seguito, i più benestanti continuano l'indottrinamento con diplomi o lauree per farsi di credere che sono superiori rispetto a chi non le possiede. Poi le illusioni svaniscono, quando si scopre che devono sempre lavorare sotto le strette direttive, gli ordini dei capi, che a loro volta ricevono ordini da chi sta più sopra di loro. E la nostra vita è una incessante inseminazione quotidiana, attraverso i media, per farci credere in un pensiero unico che ci allontana sempre più dalla realtà, incessante e senza sosta tutti i giorni, per nascondersi e soffocare il motivo della nostra vera esistenza in vita. Ma se ti fermi un attimo e osservi bene tutto quello che ci hanno impartito come imposizione, come dovere, una volta scoperto e compreso l'inganno, è facile ritrovare la serenità e la libertà. Quella che stiamo per vedere è una slitta supersonica che viaggia ad oltre 8,6 Mach. Tenete bene gli occhi aperti per non lasciarvela sfuggire. È velocissima, ma nonostante sia così veloce, vorrei vi prendeste qualche attimo per pensare. Non per fare discussioni, ma prendete solo qualche piccolo momento per riflettere. Voi stessi, a che velocità ci stiamo spostando? Secondo quanto ci raccontano i parassiti. Parassiti. Perché quello che avete visto è a 8,6 Mach. Mentre viaggiamo attorno al Sole ad 86 Mach. Solo viaggiando attorno al Sole, che a sua volta gira, dentro alla nostra galassia, ad oltre 200 km al secondo. o, se preferite, a 720.000 km orari, all'interno della galassia, la quale a sua volta sfreccia attraverso l'universo a 600 km al secondo. E qui, dal sito web SkyTG24, scrivono anche che la Terra si muoverebbe, non sanno neanche scrivere, a 51,84 milioni di chilometri al giorno, che corrisponde ai 600 km al secondo. Significa viaggiare ad oltre 1.800 Mach. Tutto questo è veramente molto veloce. Vorrei chiedeste a voi stessi, a voi stesse, se queste velocità sono vere, sono reali. Perché la stella polare è stazionaria da migliaia e migliaia di anni, nello stesso punto, e le scie delle stelle creano cerchi perfetti attorno ad essa, da migliaia e migliaia di anni. Mentre la cintura di Orione si allinea perfettamente con gli stessi antichi monumenti, come le piramidi, le quali si allineano nello stesso modo dopo migliaia e migliaia di anni. Non ci raccontano che i nostri avi erano così stupidi nel pensare che avremmo potuto cadere dal bordo, ma tutti loro credevano nel firmamento, un firmamento che attualmente possiamo osservare, in un video, dove chiunque fa ricerche può analizzare e vedere ciò che i media non vogliono, meglio, non possono fare. Vi lascio il link anche nella descrizione di questo video. E forse questa è la ragione per la quale hanno voluto creare un nuovo modello, una creazione col marchio ben visibile della bestia che lo ha inventato. La curvatura, la velocità, l'inclinazione hanno tutti i numeri che conosciamo, ma non sono qui per convertire nessuno a credere nel geocentrismo, ma per iniziare a scoprire le evidenze, quelle che hanno censurato, quelle che censurano in tutti i campi, perché abbiamo le prove, non di quello che ci hanno insegnato a credere. E ricordate che credere è nemico di conoscere, ma per quello che sappiamo, grazie a persone che hanno eseguito la scienza vera, testando direttamente le cose che potete cercare e ripetere voi stessi, voi stesse. Fate anche uso delle molteplici playlist suddivise per argomenti a disposizione sul canale YouTube o su indice alfabetico. Sono contrassegnate da questa piccola gif animata. L'uomo ci sta mentendo, e non solo. Non dimenticate che le organizzazioni, per quanto importanti o note siano, sono formate da uomini, anche da uomini onesti. Ma se a capo di queste organizzazioni ha preso il potere un'entità malvagia? Per i credenti, rileggete per un momento i vostri credo. Rileggete per un'entità malvagia, Grazie.